Il Comune ha sostegno della campagna vaccinale. Sì, è un impegno importante che stiamo avendo nei confronti anche della campagna vaccinale portata avanti dalla nostra azienda ASL e dai servizi competenti. E lo stiamo facendo grazie anche al supporto dei volontariato. Abbiamo delle associazioni che fin dall'inizio si sono messe a disposizione per il servizio trasporto degli anziani che magari hanno difficoltà a raggiungere in autonomia la sede del Censer e adesso c'è anche un servizio di consegna delle lettere di invito perché l'azienda ASL stanno ricevendo i vaccini in maniera più consistente, in numeri più grossi e quindi hanno implementato le giornate con le sedi vaccinali presso il Censer. Quindi ieri sono state consegnate dai volontari delle nostre associazioni che stanno collaborando 150 inviti per la domenica, per la seduta vaccinale di domenica questa prossima e poi proseguirà la consegna proprio per collaborare, fare in modo che possano arrivare il prima possibile gli inviti e permettere quindi di coprire anche il prossimo successivo sabato e domenica aggiuntivi agli inviti già spediti per posto dall'azienda ASL. È un impegno importante che garantiremo la consegna di circa 200 inviti al giorno nella città proprio per coprire tutta la fascia d'età degli anziani over 80. Ecco, questo ci sembra un bel momento, una bella collaborazione, il volontariato è prezioso i volontari sono orgogliosi di fare questa attività e si sentono partigiani del vaccino e quindi insomma mi sembra importante ringraziare in particolare le associazioni coinvolte in prima battuta la WISP, l'Auser, l'Anteas, Bandiera Gialla e la Casa di Abram e quindi mi sembra davvero prezioso. Blu Secorso è anche sempre presente per tutte le altre supporti per i servizi sanitari, quindi un grazie speciale ma continueremo questo impegno perché tutti possono accedere a questo prezioso vaccino. Grazie. A voi, a voi.